Vi parlo del nuovo numero di Dimagriere. Io ritengo Dimagriere una rivista molto importante perché, a parte che si avvale della collaborazione di esperti come questo mese il professor Carrubel, il professor Minelli, e naturalmente oggi, se dovessimo dire qual è il problema più diffuso, è ringrassare. Naturalmente io non vi parlerò, lo faccio fare agli esperti, di quello che è il titolo, la glicemia, che è fondamentale. Ma mi soffermo su un tema, no? Le passioni. I grandi nutrizionisti sanno che senza passioni non puoi dimagrire. E analizzo in questo numero di Dimagriere il caso di una signora che si sposa, va tutto bene, tutto funziona, ma rinuncia ad una sua passione che aveva film da ragazza e che ha messo sullo sfondo, quella della fotografia. Si fa presto con le passioni, no? Vabbè, adesso sai, sono sposata, ho delle cose da fare, bambini, non ho tempo, rimando. È come il dimagrire. È la cosa più rimandata del mondo. Beh, inizio la prossima settimana a dimagrire. Rimandare vuol dire ingrassare. Ma soprattutto ingrassi perché la mente si è ingabbiata. E più rimandi, più la mente si ingabbia. E diventa una gabbia che ti impedisce di vedere tutto il lato mobile di te. È pazzesco? Tutti quelli che ingrassano pensano di avere poca volontà. No! Ne hanno troppa, sono troppo duri con se stessi. Hanno volontà per le cose reali. Eh, devo lavorare, devo cucinare, devo portare i bambini a scuola. Hanno molta volontà per i doveri. Ma non hanno volontà per il lato acquatico della psiche. Cioè il lato che è fluido. Aquatico cosa vuol dire? Che scorre. La passione della fotografia di questa signora a un certo punto è sparita. Sparita. Ma la passione per qualcosa mette in movimento come l'acqua. Chi porta via il sovrappeso? Il movimento. Ma non il movimento soltanto della palestra che è importantissima, del corpo che è decisivo. Ma il movimento delle azioni che ti portano via dalla routine. Una mia collega molto in gamba che era ingrassata dopo il matrimonio di 10-12 chili sapete quando c'è stata la svolta? Quando la sua migliore amica ha compiuto 42 anni e le ha detto faccio un viaggio, sai? Per il mio compleanno. Ah, ma parti con la famiglia. No, 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 parto da solo con un'altra mia amica. Perché non vieni anche tu? Ma dove dobbiamo andare? Non posso dire il posto per la privacy. Ma una settimana. Le è partito qualcosa nella mente? Vengo anch'io. L'ha detto con una talia determinazione che figli, marito, eccetera non hanno neanche ribattuto. Aveva la certezza di allontanarsi, di fare cose diverse. E' andata, per questo parlavo dell'acqua, e ha riscoperto, ciascuno ce l'ha, la passione del nuotare e fare delle camminate nei boschi. Sono passati 4-5 mesi. Ha perso 6-7 chili. Ora non può nuotare perché è freddo. Ma tutti i giorni va nei boschi. Tutti i giorni va a camminare. Tutti i giorni fa qualcosa che non è nella routine matrimoniale. Perché sa che se torna alla routine perde l'indipendenza, dimagrire indipendenza. Buona lettura. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.